Influenza, sono tre mesi che ci ha averti in ticarellato direttamente da Pietrala da Beach buongiorno a tutti quanti da quando non sono più dipendente dalla cocaina purtroppo ho un carattere molto particolare che devo andare a rota per forza di qualcosa e purtroppo solida rota di questi è desolca si può dire, è desolca di successo che ne so guadagno 20 al mese ne voglio 50 guadagno 50 ne voglio di più purtroppo queste sono problematiche quando sei ambizioso in Italia l'ambizione mette paura e poi non siete abituati all'ambizioso, il brasiliano è molto ambizioso